Si annuncia una regata bella, combattuta, dove l'equipaggio pisano parte con tanti favori. Va detto anche al rischio di portare un po' male, ma credo che porti molto bene il fatto che abbiamo una grande squadra dei risultati in acqua che parlano da sé. La vittoria dello scorso anno, la bellissima competizione di Amalfi che ci vide arrivare secondi. Poi abbiamo un grande impegno di tutti, non solo dei grandi campioni che si mettono a disposizione e fanno lo slalom tra tante occasioni di lavoro agonistico per difendere la nostra bandiera e i nostri colori, ma anche i ragazzi più giovani che sono encomiabili perché lavorano tutto l'anno tenendo alto il profilo dell'equipaggio e danno un segno di serietà, di rigore, di attaccamento alla città che io devo considerare, anzi indicare ad esempio. Poi c'è il corteo storico, ci sarà una partecipazione brillante, qualificata della città, anche questo è molto importante perché così portiamo i nostri colori e il senso di una tradizione profonda in giro per l'Italia, quest'anno a Genova, ma l'abbiamo portata anche fuori dall'Italia, facendo sempre molto buona figura. Quindi ci sono gli ingredienti giusti perché il 2 giugno, festa della Repubblica, sia anche un giorno di avvio del giugno pisano, in trasferta a Genova, ci sarà anche il sindaco, con speranza di grandi risultati. Io so che la città è attenta a questi risultati che a buone speranze sono anche le mie.